Il sindaco di Ponte Cagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha inviato una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli al fine di sollecitare la riapertura del sottopasso di Via Torino. Nella missiva il primo cittadino ha messo in evidenza la necessità di realizzare un'adeguata cabina elettrica, fondamentale per garantire il funzionamento delle pompe idriche in caso di forti piogge, e di una passerella pedonale in Via Milano a seguito della soppressione del passaggio a livello di case Parrilli, che Ferrovie avrebbe dichiarato di non poter realizzare per carenza di fondi. L'appello al Ministro Toninelli è finalizzato a verificare lo stato di attuazione dell'opera e di sollecitarne il completamento, così da rendere nuovamente regolari i flussi di traffico pedonale ed autoveicolare in un punto nodale del territorio cittadino.